Cerchio e seno Non dimenticate mai, peraltro, che noi vi seguiamo, vi guidiamo e vi amiamo. Per raggiungere il risultato desiderato come prima tappa, cioè quello di raggrupparvi insieme, abbiamo dovuto utilizzare delle energie onde creare situazioni favorevoli a farvi incontrare, a farvi conoscere. Tutto ciò unicamente per far sì che noi e voi si potesse imboccare la via che porta, con la perseveranza e con l'impegno, nonché con il sacrificio, ma anche con gioia, verso la via maestra della luce e, se possibile, della consapevolezza. Ricordate, queste energie sono un patrimonio proveniente da fonte purissima. Tutto ciò che da tale fonte proviene, a tale fonte deve essere reso, per legge universale di compensazione, perché amore è giustizia. E per questa giustizia superiore, tutto ciò che l'essere umano turba con il suo pensiero, con le sue opere negative, per deliberata imprevidenza, dovrà essere riequilibrato, inesorabilmente, da lui medesimo, cioè compensato, anche con dolore fisico e morale, quando è necessario per l'evoluzione. Legge fondamentale questa dell'evoluzione, legge divina, che come tale è di valore ed effetto universale, poiché regge l'equilibrio dei cosmi infiniti e governa l'ascesa dello spirito. Tale legge va accettata con serena consapevolezza come espressione dell'operosità dell'amore universale e come difesa dell'armonia del creato. E' proprio per effetto di essa e della sua ineluttabile ricorrenza che l'essenza spirituale incontra le possibilità per espandersi e illuminarsi, che meriadi di luci intelligenti affiancano le entità incarnate, raccolgono il loro appello sincero. E' così, fratelli amati, che amore e dolore si compensano, e così che ineluttabilmente le creature, oggi soccorse, saranno prima o poi soccorritrici. Ritornando al tema iniziale vi dico, difendete quanto oggi vi è dato, difendete l'amore che vi viene inculcato, ponderate sulla pochezza della condizione umana, misurate parole e comportamenti, spegnete inconcludenti entusiasmi, vincete con la volontà proiettata alla meta finale i moti dell'impazienza avverrante e soprattutto praticate l'umiltà in ogni occasione. Infine, vi esorto a osservare la necessaria discrezione sulle esperienze che vi è dato di vivere. Non dimenticate mai, amati fratelli, che il legame che fa da ponte tra le due dimensioni è sempre esilissimo, difficilissimo da annodare in fase iniziale, precario da rinsaldare nel tempo per le più disparate ragioni, spesso indipendenti dalla vostra volontà singola e purtroppo quasi impossibile da riannodare una volta interrotto. Vi sia utile ricordare quindi che le esperienze che state vivendo devono essere validi spunti per migliorarvi. Dovete rendere operoso e fattivo quanto da esse saprete trarre sia per voi che per i vostri simili. Siate molto accorti perché potreste involontariamente falsare il significato e il valore di quanto vi è dato di conoscere e testimoniare, dando di tutto la patetica immagine di un baraccone da fiera, ove è dato di comprare a basso prezzo anticaglia a buon mercato. Per vostra insipienza, per insulsa vanità, potreste dare si fatta immagine stravolta all'amore e al bene che vi viene elargito. Date ciascuno a tutti gli altri, nella misura di cui siete capaci, l'amore che dai piani superiori vi è dato. Prima di lasciarvi, desidero esortarvi a tenere nel massimo conto la creatura che è il nostro prezioso strumento. Egli, catalizzatore insostituibile delle vostre energie, consente di far giungere ai vostri sensi umani le parole che concretizzano il pensiero di chi vi ha adottati come propri figli spirituali e permette che voi viviate queste particolari esperienze. Tutto l'amore che riuscirete a dargli e a fargli percepire sarà la sostanza incorruttibile dell'anello che lo legherà a voi. Solo così egli avrà modo di raccogliere i frutti sublimi solo così egli avrà modo di raccogliere i frutti sublimi di quelle facoltà che dono e fardello concesso e accettato da lui stesso lo faranno crescere spiritualmente con la sola rinunzia a esperienze passate e possibili altre future. Siategli grati per quanti attimi di gioia spirituale attraverso lui avete vissuto e andrete a vivere. Non dimenticate mai che siete e sarete sempre debitori nei suoi confronti. che l'Altissimo benedica tutti voi e chiunque altro s'accinge a percorrere la strada dello Spirito.